Ciao a tutti! Oggi prepareremo il brulè all'arancia e mela. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono vino, brandy, chiodi di garofano, arancia taglia da fette, mela taglia da fette, zucchero, cannella, succo d'arancia e anice stellato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il vino, il succo d'arancia, il brandy, lo zucchero, l'arancia, la mela, l'anice stellato, la cannella e i chiodi di carofano. e cuocere per 30 minuti, 100 gradi, velocità 1, con il cestello al posto del misurino. Il brulè è pronto. Filtrare, trasferire in dei bicchieri e servire. Brule all'arancia e mela. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!